Il Consiglio Comunale ad Acicatena sarà convocato per mercoledì prossimo. Questo è quanto emerso stamane dalla conferenza dei capigruppo, anche se l'ordine del giorno sarà stabilito domani in una sorta di appendice dell'incontro dei capigruppo di stamane. Quasi certamente per il prossimo 16 aprile il Consiglio Comunale di Acicatena dovrà deliberare l'uscita dalla città metropolitana di Catania, proposta di delibera già approvata in giunta da diversi giorni. Dopo il voto di ieri ad Acireale, la strada sembra segnata anche nella città del Limone Verdello, anche perché il sindaco Ascenzio Maesano è da diversi giorni in prima linea su questo versante.